buongiorno a tutti oggi vi vorrei dare qualche consiglio prima cosa quando abbiamo tenda sintetica dobbiamo metterci qualcosa dentro anche così vediamo che si fa una schiuma e va fuori dalla lavatriccia io in questo caso qua ci metto questa cosa qua è il potone così vediamo che si fa una schiuma ci metto anche un po di bicarbonato un altro consiglio che voglio dare l'acido citrico alcuni lo versano liquido però in questo caso visto che ho messo il bicarbonato già dentro lavatrice se metto liquido va subito giù non fa niente non fa niente né bicarbonato non fa niente né acido citrico perché si mescolano e evitiamo di mettere la schiuma allora ci metto così l'acido citrico ci metto così è una vaschetta dell'amorbidente che parte dopo se fate bollire i vostri stracomaci come faccio io ogni tanto tipo con bicarbonato prima cosa che vi consiglio molto importante prendete una bella pentola di buon acciaio non prendete quella in alluminio alluminio dopo un po' usando con l'acciaio facendo questa cosa qua facendo bollire i vostri stracomaci dentro il bicarbonato alluminio praticamente si sfonda ecco ci viene un buco alluminio è un metallo molto molto fragile allora vi consiglio una buona pentola ecco un buon acciaio piu 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oggi ho pochissimo tempo, allora non c'è un'altra persona e lo conosco così. Poi la prossima volta, quando avrò più tempo, puliamo anche... Guarda, dopo la pioggia i vetri sono sporchissimi, ve la faccio vedere. Non so se si vede, va? Non so se vede, va? Non so se vede, va? Non so se vede, va? Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Eccomi qua. Ho appena finito di pulire. Ogni tanto i pavimenti li lavo così. Ma una volta ogni tanto. Non sempre. Ecco. Adesso uso spazzettone. Però ogni tanto ci vuole. Perché così tiro su tutto. Ma prima di pulire il bagno. Comunque ho dato con scopo elettrico. Ecco. Così. Visto che tutto è andato giù. E dopo l'ho lavato così. Eccoci qua. Ragazzi. Vi saluto. Ciao. Le mie pulizie finiscono qua oggi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Ciao.